Marciapiede con scarpata a Cadoneghe. Era il 9 marzo quando, dopo le segnalazioni dei telespettatori, la nostra emittente è intervenuta nel piazzale della Castagnara, nodo strategico di congiunzione tra Padova e la cintura nord della città per automobili e pedoni, constatando, insieme all'associazione Anima Critica, che si trattava di una vera e propria emergenza. Lungo il marciapiede, che costeggia l'incrocio infatti, si apriva una scarpata di alcuni metri, indubbiamente pericolosa per chi passa di lì a piedi, specie sotto la pioggia o con il buio e magari deve recarsi al mercato settimanale molto frequentato. Il nostro telegiornale aveva lanciato l'allarme e chiesto che fosse messa in sicurezza l'area con una ringhiera, unico sistema in grado di eliminare i pericoli per i cittadini e oggi, a poco più di un mese di distanza, come promesso siamo tornati a controllare. Il parapetto pedonale è stato installato, i pericoli per i cittadini sono drasticamente diminuiti, l'appello è stato raccolto e noi continueremo a vigilare perché l'opera ora non venga rovinata. È una nostra vittoria che deve servire a tutti coloro che frequentano quella zona così importante del Padovano.